Sono ore decisive queste per lo Stadio Melani di Pistoia. Stasera è atteso l'ok definitivo della Commissione Pubblico Spettacolo per la riapertura della Curva Nord, ma con una capienza di soli 2.000 posti. Serviranno altri ritocchi per arrivare ai 3.000 posti complessivi come atteso dai tifosi. Molto improbabile dunque l'utilizzo dello Stadio Melani per ospitare le partite in casa della Fiorentina, qualora quest'ultima lo chiedesse e il Comune di Pistoia fosse disposto a concederlo. La chiusura è avvenuta nel 2018, quindi l'ultimo campionato giocato dalla Pistoiesia con la Curva Aperta è stato quello della stagione 2017-2018, quindi sono tanti anni, ci sono stati anche diversi ritardi nei lavori per i quali le colpe ovviamente vanno distribuite. Non puntiamo il dito su qualcuno in particolare, però sicuramente i tifosi hanno bisogno del settore caldo della tifoseria perché comunque era un punto di ritrovo importante. Negli ultimi mesi sono stati fatti passi avanti notevoli e quindi la prospettiva può essere positiva da questo punto di vista, che per le ultime tre partite la Pistoiese possa avere il proprio pubblico a disposizione e chiaramente saranno anche tre partite importantissime perché la Pistoiese si sta giocando la promozione in Serie C. Michele, se la Fiorentina chiedesse questo stadio e il Comune fosse disposto a concederlo, potrebbe andar bene per le partite di Serie A giocate in casa dalla Fiorentina? Sicuramente intanto ricordiamo che la capienza del Melani con la riapertura della Curva Nord che potrebbe arrivare nella serata di oggi, i posti potrebbero essere circa 2.000, poi sono previsti alcuni lavori, secondo la bozza, il progetto, potrebbero portare la capienza a 3.000. Sicuramente rispondendo alla tua domanda è difficile, vedo difficile un trasferimento della Fiorentina, visto anche l'importante numero di abbonati e di sostenitori che ha la squadra Viola.